Tu non devi prostrarti a un altro Dio perché il Signore si chiama geloso. Egli è un Dio geloso, non ti farai un Dio di metallo fuso. Il nostro Dio, levando l'uomo alla dignità di figlio e di collaboratore nella conservazione e sviluppo della creazione, parla al suo cuore e alla sua mente perché non vuole che il suo spirito sia offuscato da pensieri e azioni che lo portino lontano da lui, dove vi è la morte totale. In questo quadro subentra l'azione diabolica. Le varie pitture dei secoli passati, raffiguranti il demonio, non reggono più a confronte della cultura moderna. Sarebbe però un errore relegare il demonio nel monte della fantascienza. La vera astuzia del demonio consiste nel persuadere gli uomini che lui non esiste. È necessario allora che i cristiani esercino un'attenta vigilanza. San Pietro dice, siate temperanti, vigilate il vostro nemico, il diavolo come leone ruggente va in Cire cercando chi devorare. Resisteteli saldi nella fede. Volendo che la ridiscorse nella realtà è odierna, è bene dire che non bisogna vedere la sua presenza dappertutto, ma neppure possiamo negare che esercita un certo fascino sull'uomo moderno. Si vede il diavolo dappertutto, meno dove sicuramente sta, cioè né peccato. Per la gran parte dei cast si tratta di un'immaginazione e dicerie senza affrontamento o di malattia psichica, spiegabile con i dinamismi dell'incoscio in personalità dissociate. Se è vero che chi cerca il diavolo l'ha già trovato, è anche vero che con la vita di fede e la pratica dei sacramenti si diviene fortezza che non può spugnare. Quanto detto sopra, deve farci prendere di vista alcune situazioni in cui si riconosce il diavolo come Dio, cioè gli si sacrifica qualcosa per renderselo propizio, per avere favori, conoscenza dei futuri, guarigioni da qualche male, eccetera. Oggi con molta frequenza la gente chiede l'esorcismo, cioè il rito istituito dalla Chiesa per allontanare da una persona o cosa o luogo l'influsso del demonio. Tale rito può essere praticato solo da un presbitero, da un sacerdote e che si tratti di una vera possessione diabolica e non di malattia e quindi vengono evitate i comportamenti sbagliati. Vi è un'altra realtà in cui i cristiani facilmente abboccano, è il labirinto della magia. L'uomo che non crede pienamente nella paternità di Dio si orienta verso la magia nella quale trova un Dio a portata di mano. Tutte le forme di divinazione sono da rispingere. Sono in contraddizione con l'amore e il rispetto del che dobbiamo a Dio solo, gli oroscopi, la chiara veggenza, il ricorso ai medium, eccetera. Noi intanto sappiamo che Dio proibisce queste cose perché sono il contrario con l'amore e il rispetto che dobbiamo a Lui solo. Che fare allora di fronte a tante situazioni scabrose? La depressione dilagante sviluppa la magia che causa seri danni ai clienti e astronomici guadagni a chi la esercita. Possiamo anche prendere in atto. Costruiamo il nostro vitello d'oro con l'egoismo, la vanità, l'orgoglio, il benessere, la pigrizia e tanti altri dei che ci rendono schiavi. San Matteo nel Vangelo dice non potete servire a Dio e a Mammona.